Si confermano le nostre due date più importanti del calendario estivo, che devo dire che quest'anno è stato superlativo, un'offerta di qualità che continua ancora fino a fine mese. Stasera Elio e le storie tese dalle 22, insomma un gruppo, non serve dirlo, di grandissimo livello. Domani sera i fuochi a mare, sempre da Piazza Sirena, sempre dalla mezzanotte, con il consueto rito religioso della processione di San Franco, che partirà alle 19.30 dalla chiesa di San Franco. Mi preme ricordare la mobilità alternativa che abbiamo attivato, suggerendo a tutti nuovamente di utilizzare mezzi alternativi, come la bicicletta o comunque di uscire a piedi. In ogni caso il Comune si è attivato sia nella data di oggi, quindi 17 agosto, sia nella data di domani, 18, per una navetta bus, che coprirà tutto il territorio e con il taxi sociale per i cittadini diversamente abili, che potranno comunque soffrire di questo servizio. Tutte le informazioni, come sempre facciamo, le trovate sulla pagina Facebook del Sindaco, sulla mia, su quella dei colleghi e comunque sul sito del Comune. invito nuovamente appunto a utilizzare veramente la mobilità alternativa e soprattutto a godersi queste due belle serate delle feste patronali. È stata un'estate, che tra l'altro ancora si conclude, che a Francavilla è stata caratterizzata da grandi numeri di presenze. Assolutamente sì, insomma, un momento importantissimo è stato quello del concerto di Antonello Venditti, per noi è un grande onore ospitare un artista di questo rilievo. C'è stato Francesco De Gregori, io credo che il commercio ne abbia beneficiato moltissimo, ma in genere credo proprio il clima della città. Grazie a tutti.